Salve a tutti amici del canale e benvenuti in questo video. Oggi vi parlo della Bucefalandra Green Velvet, ovvero una pianta rizomatosa molto bella e molto elegante da mettere nei vostri acquari. Questa di cui vi parlo oggi è la variante Green Velvet. Tuttavia dovete considerare che essendo simili appartenenti alla stessa famiglia, vari tipi di Bucefalandra hanno più o meno le stesse esigenze. Particolare è la loro bellezza. Infatti si tratta di foglie con forme molto particolari, ma che possono variare comunque sia di colore che di forma tra le varie specie della stessa famiglia. Le foglie di questa variante possono andare fino a 5 cm di lunghezza massima e un'altezza massima intorno ai 10 cm, anche se questo dipende dalla grandezza e lo sviluppo del rizoma. Infatti cosa importantissima di questa grande famiglia di piante è che dovete comportarvi come se fossero le Anubias, ovvero sono tutte piante rizomatose, sono epifite che si ancorano a tronchi, legni, a rocce di vario genere, sott'acqua. Le radici quindi hanno una vera e propria funzione di ancoraggio agli eredi della vasca e soprattutto non prelevano il nutrimento dal fondo. Proprio come ad esempio per l'Anubias, queste sono piante che non vanno mai interrate, altrimenti si rischia la marcescenza delle radici. È una pianta che va semplicemente ancorata, fissata con le sue radici a un tronco o una roccia delle vostre vasche. E questo è un altro motivo per cui la fertilizzazione di fondo non ha utilità per questa pianta. Per questa pianta tutto il nutrimento viene prelevato attraverso la colonna d'acqua. È una pianta che ha una crescita davvero lenta, tra le più lente che io conosca. Probabilmente è dovuto anche alla bassa quantità di luce e CO2 che di solito viene somministrata per questo tipo di piante o per la posizione in cui vengono posizionate, a volte vengono messe in penombra o coperte da piante che vogliono maggior luce, più in superficie. Questo è il motivo per cui io la considero a crescita molto lenta. Sicuramente con più luce e più CO2 queste possono avere un andamento maggiore ma di solito tendono a sviluppare non più di una foglia ogni due settimane. La riproduzione avviene attraverso accrescimento del rizoma e le fioriture che possono avvenire più volte l'anno. Onestamente non ho trovato una correlazione con fattori ambientali e fioritura però in alcuni le fioriture possono avvenire più spesso, in altri meno. Comunque la fioritura nel caso dell'acquario non è un evento che porta alla riproduzione di questa pianta. Per riprodurre questa pianta bisogna aspettare che cresca il rizoma e semplicemente sezionarlo per spostare un nuovo pezzo di pianta in un'altra zona. Però ripeto, è un'operazione veramente molto lenta perché la pianta è molto lenta a crescere. Proprio per la sua lentezza la considero una pianta a bassa esigenza di luce addirittura è una pianta che potrebbe tranquillamente vivere in penombra quindi posizionata sotto alle altre piante quindi in secondo piano è una pianta che però si adatta alle varie condizioni quindi la sua crescita e la sua rigogliosità dipendono comunque dalle condizioni ambientali. Io di solito la tengo sotto un velo sottile di qualche galleggiante e sotto il muschio di java come potete vedere prende una minima luce che imperisce di far attecchire le alghe. Si adatta a vari range di temperatura e valori vi scrivo quelli con cui io l'ho fatta crescere con successo senza problemi e a volte anche fiorire quindi un pH tendenzialmente basico quindi sul 7,5 con 8 di GH e KH la temperatura andava tra i 20 e i 28 gradi a seconda della stagione e gli acquari in cui l'ho fatta crescere erano tutti caridinai quindi con acqua sostanzialmente ferma. Nonostante questo la buce farlandra è cresciuta anche perché come tutte le buce farlandre vivono in ambienti in cui l'acqua è veramente molto mossa quindi in realtà preferiscono un ambiente con acqua molto turbolenta. Anche se non è una situazione necessaria questa del movimento d'acqua io l'ho fatta crescere anche in acqua stagnante addirittura acquari senza filtro senza pompa di movimento. Io lo metterei anteriormente e nel mezzo in una vasca perché è una pianta che è molto bella da osservare purché ci siano più fusti perché un singolo fusto è piccolo e non viene notato o la fate crescere ma ci vuole tanto tempo oppure si prendono magari due o tre fustini e si affiancano questo sarebbe l'allestimento ideale. Comunque se devo dare un aggettivo a questa pianta io la definirei elegante. Bene, questa era una scheda che ho voluto fare anche in base alla mia esperienza nel coltivarla, nel farla crescere. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo con nuovi aggiornamenti. Ciao a tutti! Ciao! 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 Grazie a tutti